Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa seconda parte della guida di Zone of Genders Collection diretta e giocata sempre da me Colossus 13 adesso come vedete andrò a caricare il gioco e potete benissimo vedere che invece di 20 minuti di durata come dovrebbe essere visto appunto lo scorso video il salvaggio recita ben 30 minuti quindi cosa avrò fatto in questi 10 minuti mancanti? allora ho passato il tempo ad adenarmi nel primo livello Factory numero 1 in modo tale da raggiungere il livello 3 se voi avete seguito il mio scorso video nei dettagli dovreste essere quasi al livello 2 quindi passate pochissimo tempo a combattere veramente un minuto o due minuti quello che dovete entrare e uscire poche volte dalla Factory e in questo modo arriverete al livello 2 poi passate un altro 10 minuti scarsi e sarete già al livello 3 perché fare questo? perché in questo livello che adesso andremo a vedere nel video dobbiamo affrontare una boss fight o comunque uccidere alcuni nemici un pochino più forti rispetto agli altri di conseguenza come consiglio appunto il mio è quello di arrivare al livello 3 per renderli il tutto più semplici anche perché così vorrete incassare più colpi senza starvi troppo preoccupare di schivarli vorrete benissimo attaccare cioè senza dovervi parare ma bensiché attaccare mentre subite appunto questi colpi che vi toglieranno un po' di meno invece se stavate al livello 1 allora potevano essere un po' più rischiosi e quindi sì sarebbe stato meglio pararli e quindi avreste perso un po' di tempo diciamo ora appena arriverete qui dentro vedremo appunto questo filmato che ci spiega che Leo sperava di trovare ancora il padre in vita e la situazione è piuttosto dubbia ma un po' di speranza resta e poi incontriamo Servis questo nuovo personaggio che adesso cercheremo di andare a salvarlo che vedete vuole cercare di scoprire se i bambini nella chiesa sono vivi o meno Leo come al solito gli dice che è una follia insomma perché rischia la vita per una cosa del genere ma alla fine saremmo noi a dover aiutare Servis a sopravvivere visto che purtroppo una minaccia maggiore ci aspetta appunto dovremo affrontare un vero e proprio boss che al contrario del primo boss più o meno Viola non era proprio una vera e propria boss fight non c'era la vita su schermo è durata pochissimo quindi chiamarla proprio boss fight non direi invece questa a tutti gli effetti la vera e proprio il primo scontro contro un boss senza ombra di dubbio questo boss che ora andremo a vedere vedete siamo quasi stati colpiti da uno dei suoi attacchi e lei intanto è entrata nella chiesa ci stiamo avvicinando eccolo lì lontananza che utilizza questi strani attacchi queste fiamme ovunque che escono da queste gigantesche braccia a cui dovremmo stare attenti appunto a queste fiamme se non vogliamo perdere molta vita perché le usa moltissimo in tutte le varie direzioni di conseguenza sarà meglio cercare di schivarle ma vi ho già detto se siamo a livello 3 più di tanto non ci farà niente inizialmente inizia con le sparate queste palle di fuoco che sono piuttosto problematiche ecco appunto le fiamme queste fiammate che spostano in tutte le direzioni tutto ciò che dobbiamo fare è rimanere lontani restate lontani continuate a sparare con un quadrato questo attacco appunto da lontano queste sfere di energia sparate, sparate, sparate e fra poco vedete molto semplice schivate le fiamme quando arrivano continuate a indietreggiare sparate e lo porteremo all'incirca a metà vita quando un boss raggiunge metà vita mostra il suo aspetto reale appunto utilizza tutte le sue abilità diciamo quando si trova alle strette adesso i suoi attacchi cambiano adesso spara queste palle di fuoco in questo modo potete schivarle poi sparate un altro po' alla testa che appunto è il suo unico punto debole sparare il resto del corpo non farà niente ora salterà in aria cercando poi di riatterrarvi addosso e se vi colpisce in piano vi toglie tantissima vita ora in questo momento tenete premuto R2 da fermi così caricate questo attacco e appena esce la testa sparate l'attacco vedete vi togliete un bel po' solo che dovete essere veramente molto precisi perché se una sola di quelle sfere vi raggiunge poco prima che anzi nel momento in cui state lanciando l'attacco andrà tutto in fumo e ve lo bloccherà quindi dovete essere buoni proprio a lanciarlo in quel momento lì in cui la sfera sta per arrivare ma non vi ha ancora colpito quindi prendete bene i tempi appena vedete che sta rialzando che si sta rialzando rialza la testa caricate e poi lanciate l'attacco come vedete è devastante che toglie moltissima vita e rende il tutto più semplice ora gli sparo un altro po' di attacchi normali da lontano queste sfere di energia appunto e lo uccidiamo con molta facilità se seguirete appunto il video e i miei consigli alla lettera non sarà assolutamente difficile battere un boss del genere non è niente di difficile ecco allora partirà questo breve video in cui Ada inizia a dimostrarsi per quello che è come appunto è un'intelligenza artificiale quindi non può avere un cuore e non fa altro che fare dei freddi ragionamenti logici che dovrebbero aiutarci ad uscire indenne dal nostro compito dalla nostra missione ma essendo lì una persona un essere comandolo da tutto un ragazzo che non ha mai ucciso ovviamente è un po' difficile eseguire questi comandi alla lettera con con tutto questo sangue freddo e quindi i due hanno iniziato ad avere qualche scontro di opinione adesso appunto vediamo questo questo breve filmato e appena ritorna l'azione ci risentiamo Be careful. Solis, this way, quickly! Come on, hurry! Bene, siamo riusciti a salvare Solis, adesso prendiamo il Metaton, così recupereremo tutta la vita, e avete visto nel filmato sono arrivati questi nuovi nemici che amano prenderci a pugni, però state attenti, cercare di colpirli senza subire contrattacchi, e appunto state sempre a livello 3 e loro a livello 1, sarà molto facile ucciderli e non vi creeranno problemi. Non utilizzate la presa con cerchio, perché alcune volte sono un po' più intelligenti e cercheranno di sfuggire dalla vostra presa, quindi state attenti. Ora, uccidendole avete visto che hanno la passcode, quindi di conseguenza una volta morti lasciano questa password, che vi consente di accedere ai server che contengono queste armi secondarie, di cui parleremo con maggiore attenzione pian piano nei video, in cui troveremo tutte queste armi nei vari server che andremo a vedere più avanti nelle missioni. Appunto, qui abbiamo trovato il Javelin, lo assorbiamo qui da questo server, e quando siete a una certa distanza, vuol dire che non siete così vicini da poter utilizzare la presa con cerchio, ma bensì che siete un po' più lontani, appunto, riuscirete a utilizzare queste armi secondarie che hanno ognuna un effetto diverso, che scopriremo appunto utilizzandole. Però servono le munizioni, appunto, quindi che cosa fare? O trovate dei contenitori di colore giallo che contengono le munizioni, oppure uccidete i nemici, in cui sotto c'è scritto, appunto, Javelin, o quello che sarà il nome delle altre, delle, appunto, delle altre armi secondarie, e una volta morti, invece di lasciarci il Metatron password, questa volta ci lasceranno le munizioni per quell'arma. Andiamo ad uccidere un po' tutti i nemici, anche perché così, appunto, prenderemo un po' di esperienza, non ci vorrà niente, è stato a livello 3, quindi vi consiglio, anche qui, di cercare di uccidere tutti i nemici, a meno che non volete fare le missioni di salvataggio, ci sono delle missioni che, appunto, verranno introdotte nel filmato che andremo a vedere più avanti, queste missioni di salvataggio, in poche parole, dovremo cercare di salvare le persone dall'attacco di questi, di Orbital Freeman nemici, uccidendo tutti gli Orbital Freeman in quell'area. Se, però, alcuni palazzi sono stati distrutti, in cui c'erano delle persone, allora, la percentuale di persone salvati diminuirà, e anche la percentuale di edifici salvati diminuirà. E queste missioni vanno a valutazione, da un minimo di D a un massimo di A. Se voi, ovviamente, vi mettete a combattere un po' a caso, senza fare attenzione agli edifici o alle persone, allora, ovviamente, la vostra valutazione andrà a scemare molto velocemente. E la seconda missione sarà ambientata, appunto, in questo posto. Quindi, se durante il combattimento con Tempest, Tempest ha distrutto troppi edifici, oppure, in questo momento, con lo scontro con questi nemici qui, avete distrutto troppi edifici, ne andrà a risentire la seconda missione. Di conseguenza, vi ripeto, se durante questi scontri troppi edifici sono stati distrutti, ricaricate il salvaggio e riprovate. Altrimenti, andate avanti. Il limite sarebbe quello, all'incirca, di non più di due, a questa difficoltà, non più di uno, però. A difficile vi potreste permettere anche due edifici. Qui mi sembra che già con un edificio dovresti, non so, mandare tutto veramente a farsi benedire. Di conseguenza, ve lo ripeto ancora una volta, cercare di completare lo scontro distruggendo meno edifici possibili. Una volta fatto, qui sarei sicuri che è tutto a posto, salvate, oppure, se non ci siete riusciti, ricaricate immediatamente e riprovate. Se seguite quella che è la mia strategia, dovreste fare. Il consiglio può essere quello di, mentre appunto sparate da lontano, la prima parte a Tempest, indietreggiate, in modo da portarlo verso dove ci sono quei ponti. Indietreggiate, lo uccidete subito, inizia la seconda parte dello scontro e fate in modo tale che quando si schianta, si schianta lì su quella parte centrale, in mezzo ai ponti, in modo tale che così non va a distruggere nessun edificio. E quando sparate le palle di fuoco, cercate di andare a pararle, appunto con lo scudo, premendo R1, in modo tale che le palle non vanno in giro, rischiando di colpire gli edifici lì vicini e andrebbe a rappresentare un bel problema. Ok, i consigli per evitare che la seconda missione vada male sono in circa questi, appunto stare molto attenti con Tempest e potete anche evitargli quei combattimenti che io ho fatto per ottenere il Jeverin e le munizioni del Jeverin. Prendete il Metatron, uscite subito, salvate e ve ne fregate, lo fate appunto in quel secondo momento in cui dovete affrontare la missione e prendete anche le munizioni per Metatron. Ora ci sarà spiegata la missione, come andare avanti nella trama, cosa dobbiamo fare e ve rappresenterà anche la prima missione di soccorso. Quindi per oggi è tutto, io vi ricordo di passare sulla nostra pagina di Facebook, di Gamer's Channel, di iscrivervi al nostro canale se volete continuare a seguirci e di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, vi ha aiutato, vi piace il mio commentary, insomma, quello che è fate voi. E che dire, appunto per oggi è tutto, ci sentiamo al più presto con la terza parte della guida di Zone of the Enders Collection. Ciao ciao ragazzi! Ciao ciao!